Un piano di marketing territoriale realizzato con 14 video monotematici che raccontano la città. Prato ti prende e propone brevi filmati, al massimo di 90 secondi, girati con lo scopo di promuovere la città e invogliare a visitarla. E sono scaricabili gratuitamente dal sito Città di Prato. Questi primi video che vogliono raccontare Prato come luogo di destinazione, per esempio da destinazione nel fare gli studi, e parleremo delle nostre università, destinazione per mangiare bene, tutte le nostre aziende, anche le aziende di somministrazione, dei nostri prodotti tipici. Insomma ci saranno, sono tematici e vogliamo fare in modo che questi siano presenti il più possibile su internet, su Facebook e su tutte le tipologie digitali in modo tale che le persone conoscano la città. Il progetto è stato creato da FLOAD, agenzia di comunicazione, mentre la realizzazione dei video è affidato ad Alchimia Film. I primi video realizzati raccontano di teatri cittadini, delle università, delle tradizioni culinarie e di come ci si può divertire a Prato. Gli altri invece raccontano il polo musicale con la camerata strumentale e la scuola verde, i principali monumenti, le attività che si possono svolgere all'aria aperta, con scorcio sulle bellezze naturalistiche, la smart city, il contemporaneo, l'archeologia industriale. Saranno rilasciati in download richiedendoli al sito di cittadiprato.it e anche sulla pagina Facebook di Città di Prato, nel punto del Città di Prato, e saranno rilasciati su Facebook in cross-posting. I video saranno messi a disposizione di che interessa utilizzarli per vari motivi. Giornali, hotel, aziende, associazioni, enti culturali, blogger e singoli utenti.